La mattinata si preannuncia fredda e nebbiosa. In arrivo da ovest nuvole cariche di pioggia, prevista scarsa visibilità, fondo stradale scivoloso. Gradualmente, durante la giornata, per effetto di un carico d'alta pressione da nord, sono possibili chiarite locali. Tuttavia, con vento forte ed intensità variabile, potranno verificarsi temporali. Nel corso della notte, rasserenamento su quasi tutto il paese, solo a sud-est non sono escluse precipitazioni, temperatura in notevole diminuzione, pressione atmosferica in aumento. La giornata seguente si preannuncia soleggiata, anche se a quelli che sono ancora vivi continuerà a essere utile l'ombrello.